Per molto tempo ho sofferto di insonnia, almeno fino a quando non ho letto questo libro. L'autore è Vittorio Gregotti. Il titolo è Incertezze e simulazioni. Editore, Schira. Per capire quanto è noioso, leggiamo la quarta di copertina. In particolare la verità in architettura si produce a partire dal duplice rischio della relazione tra autonomia della ricerca di un fondamento del proprio fare ed eteronomia dell'occasione sino alla fondazione di un progetto in quanto messa in luce di uno specifico patrimonio di possibilità per mezzo della costituzione di una stabilità delle sue forme. Chiaro? In fondo credo che quella frase si poteva riassumere dicendo che l'architettura ha proprie regole ma che comunque interagisce con il mondo esterno che la circonda. Una mi sembra sia la tesi principale del libro e cioè che l'architettura debba fuggire dalla globalizzazione imposta dai mercati finanziari. Ne segue come corollario che lo star system fa pessima architettura e che l'unica soluzione sia il realismo critico e cioè l'architettura che fa Gregotti stesso. E poiché questa tesi la ripete ad infinitum e io spazio nella libreria ne ho sempre di meno sapete che cosa faccio? Prendo una pagina, pagina 55, la strappo, me la conservo e il resto del libro sapete che faccio? Lo prendo e lo butto.